prima parte del santuario della madonna del pianto di caderizzi a pontida con questo video non è mia intenzione spararvi una mitragliata di date o nomi di persone oppure eventi che nel tempo sia nel bene o nel male hanno avuto a che fare con il santuario della madonna del pianto ma capirne il perché e il quando cominciamo col primo perché perché in questo posto a caderizzi che per tre mesi l'anno non vede il sole ed è la siberia della val san martino quando a 500 metri di distanza vi è l'eterna primavera è potuto nascere e sviluppare il culto della madonna che col tempo poi è diventata quella del pianto per una cosa semplicissima la sorgente di acqua perenne che vi sgorga e la strada adiacente che percorrevano i pellegrini che si recavano all'abbazia di pontida o la gente comune che vi passava per affari in passato la gente per la maggior parte si spostava a piedi e cosa fa quando incontra una sorgente di acqua si ferma a dissetarsi se c'è qualcuno parla del più del meno uno magari mette giù una croce o appende un rosario per ricordare un parente caro scomparso oppure che sta male un altro un'immagine sacra chi un fiore oppure si accende un lume eccetera 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 così da un posto normale con una sorgente di acqua nasce e si sviluppa e se qualcuno sostiene che quanto sto dicendo sono delle stupidaggini oggi come vedete dalla data sul monitor mentre sto facendo la traccia audio di questo video 500 metri più avanti del santuario guardate cosa succede ancora credo che le foto non abbiano bisogno di commenti ma è l'acqua e lei è nell'acqua che si forma e può esistere la vita e quanti luoghi di culto sacri o profani hanno a che fare con l'acqua provate a pensarci bene guardate che non è un'idea campata in aria e così siamo giunti al quando se prendiamo come buona questa teoria per la scelta del luogo ora dobbiamo stabilire il quando e qua bisogna tirare a indovinare ed è bravo chi ci azzecca per me secolo più secolo meno intorno agli anni mille con la nascita dell'abbazia di Pontida da parte di Alberto da Prezzate e lo sviluppo seguente del paese e siccome è sulla strada che i pellegrini provenienti dalla Bergamasca e Milanese percorrevano per venire a Pontida non credo di sbagliarmi molto ma il primo documento ufficiale che ne atteste il culto alla madonna degli spasimi o del pianto e l'edificazione di una chiesetta risale al 1863 però una precedente santella in legno o in emuratura con un dipinto dedicato alla madonna per le grazie che già elargiva ai fedeli lo si fa risalire a dopo il 1650 cosa ci sia stato prima? questo non è dato a sapersi con la costruzione della chiesetta aumentò anche l'afflusso dei fedeli che si recavano singolarmente o in processione organizzate in parrocchia per chiedere le più svariate grazie un anno per la siccità chi un parente o lui stesso per guarire da qualche malattia epidemie varie sia degli animali oppure delle persone che facevano strage sia degli uni che degli altri e siccome molte delle grazie che i fedeli chiedevano venivano esaudite come risulta anche dagli ex vuoto che si possono vedere appesi nella chiesa col passare del tempo i fedeli aumentavano sempre di più e così chiudiamo anche la prima parte che la riprenderemo dopo il 1876 l'anno della morte nera è una volta che state è un secondo Grazie a tutti